C'è un senso interessante perché abbiamo modo di capire che chi ha fatto ricerca proprio delle soluzioni che sono veramente intelligenti, importanti, utilizzano un materiale, ci sono delle riduzioni di costi. Le riduzioni di costi che in Italia non avvengono mai perché non abbiamo messo mano alla ricerca dei sistemi che possono ridurre quelli che sono i costi e l'utilizzo di materiale. E quindi ci troviamo sempre a essere in una modalità antica da costruire. Io mi ricordo, se appena è pronto, mi ricordo quando uscì il legno lamellare, in Italia non si utilizzava perché era un musello, a un certo momento il legno lamellare si mette anche dove non ci vuole. Perché noi siamo fatti così, abbiamo una modalità di abitudine e l'abitudine non si cambia. Prego per quanto riguarda inseramente l'alta efficienza, vediamo un attimo che appunto siete arrivati. Buongiorno a tutti, mi chiamo Rosario Fiorentino, lavoro in Sciuco e mi occupo di assistenza tecnica agli studi di progettazione, all'impresa di costruzione e a chiunque debba fare dei cantieri. Io sono un po' controcorrente perché vi farò vedere diversi edifici interamente vetrati, quindi vado un po' contro quello che ho sentito fino adesso. Ho impostato la mia presentazione con una brevissima presentazione di Chi è Sciuco, perché anche se è un marchio molto conosciuto vi faccio vedere alcune precisazioni. giorni, dopodiché ho improntato alcune fotografie degli ultimi cantieri che abbiamo realizzato, ho inserito anche dei filmati, così anche per alleggerire un attimo la presentazione, perché il tema è molto vasto e i 15 minuti passano veloci. Chi è Sciuco? Sciuco è un'azienda tedesca, nasce nel 1950 in Germania dall'intuizione di un piccolo seraventista che era noto all'epoca soprattutto per realizzare vetrine per negozi. Il signor Schurman, che era il titolare di questa piccola azienda, poco più di un fabbro, realizzava, come ho detto, delle vetrine di negozi. ebbe l'intuizione nella sua attività lavorativa di creare un sistema, cioè non solo realizzare e acquistare dei profili in alluminio, ma anche progettare per questi sistemi anche relativi accessori ed è quello che ci potrà distingue tuttora, perché nei sistemi Sciuco, a differenza magari di altri sistemi, non è possibile acquistare i profili e poi montare accessori generici, ma sui profili Sciuco vanno montati solamente gli accessori originali Sciuco. Questo normalmente fa sì che un serramento Sciuco duri negli anni, direi, piuttosto magari ad altri sistemi. L'evoluzione dell'azienda direi che è stata costante, negli anni 80 si è arrivati anche in Italia, dove noi siamo presenti da diversi anni, l'evoluzione anche del marchio Sciuco, come vedete qui da queste immagini c'è stata nel corso degli anni anche legata ai discorsi di marketing. Noi però in Italia siamo, come Sciuco Italia, per il gruppo il terzo paese, dopo la Germania, dopo la Francia, a livello di fatturato viene in Italia. In Italia noi siamo basati a Padova, dove c'è il nostro quartiere generale, siamo circa 170 dipendenti e in Italia abbiamo 1200 partner che acquistano da noi regolarmente e abbiamo 5 filiali posizionate sul territorio nazionale, partendo dal nord, Milano, Torino, Padova dove c'è la sede, poi Rimini, Napoli e Roma. Però noi siamo un'azienda tutto italiana, nonostante facciamo parte di una multinazionale ormai molto grande che è la Sciuco Germania, noi in Italia ci teniamo a mantenere la nostra italianità, come dicevo siamo presenti a Padova dove abbiamo una sede con 22 mila metri quadrati e dall'Italia, come Sciuco Italia, noi seguiamo anche paesi come l'Albania, Malta e alcuni paesi africani. I valori aziendali non è uno slogan, ma per noi è la quotidianità a cui ci riferiamo solo l'innovazione, la partnership, l'eccellenza, la responsabilità. Innovazione perché noi siamo un po' l'azienda di riferimento nel settore degli involuvi, quindi siamo costantemente alla ricerca di nuovi sistemi, di progettazioni spinte anche, questo quotidianamente. Partnership perché non realizziamo noi direttamente serramenti e facciate continue, ma ci affidiamo come abbiamo visto in Italia ad esempio a 1200 nostri partner che sono per noi la spina dorsale della nostra attività. Eccellenza perché ci viene riconosciuto in qualche modo che i sistemi Sciuco sono sistemi eccellenti e responsabilità perché come vedremo anche dopo, noi insomma per l'ambiente stiamo facendo parecchio e stiamo studiando anche nuovi sistemi che vadano in questa direzione. La gamma dei prodotti Sciuco è piuttosto ampia, anzi direi molto ampia. In questa slide ho identificato le quattro famiglie principali, l'acronom, quando noi chiamiamo AWS, AWS sta per Aluminium Windows System, ADS identificano le nostre porte, quindi Aluminium Door System, i sistemi ASS identificano i sistemi scorrevoli, quindi Aluminium Sliding System e poi ci sono tutti i sistemi di facciate, quelli che vendiamo a catalogo perché poi come vedremo adesso in alcune immagini ci sono grandi lavori dove noi dobbiamo realizzare una facciata ad hoc per il nostro cliente perché non è possibile utilizzare i sistemi da catalogo. Ho racchiuso i nostri prodotti in due categorie, per uso residenziale ad esempio dove noi ci occupiamo di ventilazione, di building automation, di schermature solari, dove abbiamo sistemi per porte, illuminazione, sistemi scorrevoli e finestre, quindi ogni settore chiaramente poi ha al suo interno tanti prodotti e tanti sistemi. Per quello che riguarda invece l'uso commerciale abbiamo dei sistemi di ventilazione, schermature solari in questo caso, evacuazioni, e sistemi per evocatori fumo e calore e poi sistemi di facciate continue e direi piuttosto anche evoluti. Ho racchiuso qui alcune nostre ultime realizzazioni che magari conoscete bene, ma ad esempio qui siamo a Milano dove abbiamo realizzato le residenze di Zadid e quelle di di Zadid e Schied. Si tratta di 13 edifici dove la componente serramento è stata studiata ad hoc per questi lavori. Qui non abbiamo potuto attingere a nessun tipo di profili da catalogo perché gli architetti hanno voluto personalizzare i sistemi. La Torre Regione Piemonte a Torino è un esempio di prodotti non standard. Qui abbiamo realizzato un grattacielo sostanzialmente alto 205 metri, quindi che ad oggi è l'edificio più alto in Italia, dove ci saranno all'interno circa 2.000 dipendenti pubblici. Il sistema di facciata continua che abbiamo studiato per questo cantiere è stato realizzato interamente e solo per questo cantiere, quindi non sarà neanche più replicabile sostanzialmente. Questa è un'immagine da sotto. Questo è un edificio che tutti quanti conoscete perché la Torre Unipol qui a Bologna è un edificio che sul lato sud è costituito da una parete a doppia pelle, mentre invece a nord da una pelle singola. Questo edificio che comunque è alto 127 metri ha ottenuto una certificazione per il lead oro e quindi oltre l'edificio che state vedendo, che è la sede della Unipol, alla base c'è un albergo a quattro stelle già operante, un centro fitness e anche una piastra commerciale. Qui vedete la zona degli ingressi del grattacielo, la zona di ingresso del grattacielo Unipol. Questo edificio qui, la cui posa in opera è già iniziata a Londra, si chiama Dollar Bay. Noi ci siamo occupati di questo edificio della pelle esterna che è composta da lamine di vetro. Sostanzialmente queste lamine di vetro, come vedete da una di queste immagini, realizzano una sorta di chiusura di un terrazzo perché poi i seramenti sono spostati più verso l'interno di circa due metri e mezzo. Quindi noi abbiamo realizzato la pelle esterna che sono delle lamine di vetro che misurano due metri di larghezza per 50 centimetri di profondità. Questi vetri sono costituiti da due cristalli temperati e stratificati da 10 mm l'uno, quindi abbiamo 20 mm di vetro, e sono movimentati attraverso delle motorizzazioni. La particolarità di questo, questo è uno dei tanti disegni che abbiamo fatto, la particolarità di questo sistema è che le motorizzazioni che normalmente si usano per movimentare dei serramenti o dei frangisole hanno delle dimensioni tali che non erano compatibili con i desideri dell'architetto che ha voluto miniaturizzare tutto. Quindi siamo andati alla ricerca di chi poteva fornire questi motori e li abbiamo trovati in campo medicale perché ad esempio nei tavoli delle sale operatorie degli ospedali, che sono tutti automatici, sono movimentati da motori piccolissimi, quindi siamo partiti da lì per cercare di accontentare l'architetto. In questa immagine vediamo il visual mock-up che abbiamo realizzato per testarlo presso i nostri laboratori. Il peso di ogni lastra di vetro da 2 metri per 50 cm è di circa 70 kg. Uno dei prodotti a livello di novità degli ultimi tempi sono i cosiddetti scorrevoli panoramici, cioè si tende a miniaturizzare sempre i profili in alluminio perché magari il desiderio è quello di vedere poco impatto dell'alluminio più il vetro. In questo caso qui il sistema SS-77PD ha un accoppiamento centrale tra i vetri di circa 3 cm. Sotto questo livello non si riesce ad andare. Ovviamente sono motorizzati questi scorrevoli e i motori sono montati completamente a scomparsa. Qui vediamo le tre serie normali, il sistema SS-77PD-NI non è a taglio termico, quindi si usa in determinati mercati, il 77PD-HI è a taglio termico, così come anche il 77PD-SI che ha dei profili in pultruso, quindi per aumentare le performance termiche. Qui vediamo un'immagine di una realizzazione, un particolare a pavimento dove in pratica non si vedono motorizzazioni perché sono tutte a scomparsa. Noi possiamo realizzare attraverso questo sistema delle alte pesanti fino a 500 kg. Ovviamente hanno tutti i dispositivi di sicurezza che la normativa ci impone e quindi sono assolutamente realizzati secondo le norme. Vediamo qui la sezione a pavimento dove il profilo chiaramente se lo si vuole far scomparire nel pavimento ha necessità di avere anche un pavimento sopraelevato all'esterno. La freccia rossa indica lo scarico dell'acqua perché chiaramente a serramento finito si vede quasi tutto vetro, però in realtà c'è un profilo da 18 cm su tutto il perimetro che va occultato. Una delle particolarità di questo sistema è che ad esempio io posso fare degli angoli completamente apribili, motorizzati, quindi uscire dalla parte centrale senza avere i montanti centrali. Abbiamo fatto diverse realizzazioni, devo dire che se il panorama poi lo consente, il serramento è sicuramente molto valido dal punto di vista estetico e prestazionale. Vediamo qui alcune realizzazioni dove insomma gli scorrevoli ormai hanno raggiunto delle dimensioni tali dei pesi che sono da calcolarsi bene, però le realizzazioni ci sono e vanno studiate. Se studiate dall'inizio con l'architetto insieme a noi che siamo gli specialisti i lavori si riescono a fare. Non solo grattacieli, ho messo questa immagine perché non siamo solamente un'azienda che realizza lavori speciali a loro, Londra, New York, come stiamo facendo eccetera, però ci sono anche realizzazioni tutto sommato di abitazioni private e anche di dimensioni non particolarmente elevate. Per sostenibilità è un insieme, come vedete da questo slide, di più elementi, di più fattori. Parliamo di energie, CO2, risorse, impatto con l'ambiente, longevità, stabilità, capacità di riparazione che non è secondaria, la fine della vita perché poi alla fine i materiali arrivano a una fine e anche il riciclo. Per quello che riguarda la riparazione ci sono parti meccaniche che se sono oggetti ad usura possono essere tranquillamente riparate, senza nessun tipo di problema. Noi abbiamo i magazzini, se si spaccano degli accessori possono essere sostituiti. A fine vita il seramento in alluminio può essere rinnovato, può essere smontato e portato attraverso aziende specializzate, può essere riciclato, può essere riciclato all'infinito perché l'alluminio si ricicla molto facilmente e quindi possono essere riestrusi infinite volte. Ecco, uno degli aspetti principali della nostra attività è anche quello di pensare a nuovi materiali. Già oggi, ad esempio per quello che riguarda gli stelli in poliamide che sono quelli che realizzano il taglio termico, noi, questi sono sistemi che già vendiamo, siamo già andati avanti, cioè gli stelli in poliamide oggi sono ricavati da piante, semi, vegetali, oli e quindi noi li abbiamo chiamati gli stelli isolanti bio, quindi per quello che riguarda la parte che era di plastica dei profili a taglio termico. Così come anche le schiume di poliuretano, sempre più presenti nei profili ad alte performance, anche queste sono di derivazione da pianta vegetale, oli vegetali e anche queste compongono la schiuma bio. Le guarnizioni dei vetri, oggi le guarnizioni dei vetri possono essere anche vendute e ricavate ad esempio da una lavorazione della canna di zucchero, insieme all'etilene e ci sono guarnizioni bio in epidem. Tutto questo chiaramente con certificati alla mano. Faccio un accenno velocissimo anche alla domotica, visto che è uno degli argomenti di questo convegno. Il nostro sistema Tiptronic è una finestra tradizionale, come tutte le altre, dove ha motorizzazione e apparecchiature completamente a scomparsa. Quindi con questi sistemi che a finestra chiusa sembra una finestra tradizionale, aprendole invece si vede come nelle parti verticali siano nascoste e quindi non visibili, tutto quello che riguarda l'apparecchiatura per movimentare le finestre. Tutto scorre all'interno dei profili, i cavi, non c'è nessuna fresatura, ci sono ad esempio la protezione anti schiacciamento, anche quella nascosta nel profilo. Si può realizzare una finestra tradizionale o una finestra mecatronica con lo stesso identico profilo in alluminio. Questi sistemi ormai che sono di uso corrente possono essere utilizzati pressoché dappertutto, senza nessun tipo di problematica, possono essere anche costituiti da soluzioni radio dove ad esempio abbiamo un pulsante alla parete e un telecomando e possono essere aperte e chiuse anche da tablet oggi, da cellulari, possono essere, ad esempio si possono realizzare dei piccoli gruppi per la gestione o dei gruppi più numerosi, sempre con l'utilizzo di comandi a parete oppure telecomandi, come vi dicevo, anche magari utilizzati.